Patre, Patre, Maria, Divina, 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 Segnio è tanta gloria, tutta la storia trillata, onore e piccolia. Nel nome del Padre, del Signore e del Spirito Santo, il Signore si tratta di voi. Per ammettere la traduzione della Chiesa, che vi ammettere in sabato, fa memoria del vento e del pariano. Ci vediamo nel nostro ricordo di ciare alla gioia e alla resurrezione che rimane la Pasqua settimanale. Vogliamo ringraziare il Signore e fidarci alla terza generale della Gesù. Luca, sempre lì, aiutare questo grande di sé, il suo figlio, incarnato, morto, e il suo. E' ascienza del Signore, sempre presente in mezzo al Padre. Sia lei, ma non è dolce, quando facciamo la vita di un grande. Sia lei, e il suo figlio, sempre pronto, a fare la loro vita di un grande. La legge, la fediamo, quando si fa la società, se non lo conosce, le fatighe, inseridiamo, il mio figlio, e il mio figlio, e il mio figlio. Siamo qui, confidiamo la nostra figlia, la sua figlia, e il mio figlio. di un possesso, di un altro uomo che ci stai, un suo figlio, della Gesù. La loro figlia, ora, il mio figlio, e la loro figlia, nel suo figlio, del mio figlio, di un modo che è diventato, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.